Ciao a tutti, sono Martin Romeo, artista visivo e coordinatore del Master in Visual Art for the Digital Age a Milano. All'interno della cornice di Smart Life Festival ho presentato una nuvola in vetro che ho realizzato a Murano e manifesta all'interno del suo apparato un'altra nuvola di vapore acqueo. Questa è collegata in tempo reale con il cielo, soprattutto con il traffico degli aeroplani che sorvolano Modena in particolar modo, quindi dialoga in modo diretto con la sua realtà, che la circonda e manifesta questa macchina di metallo a distanza, ma portandola quindi a terra. Ogni volta che un aeroplano sorvola una nuvola, l'installazione manifesta questa reazione, mostrando il fenomeno dell'inquinamento e del controllo del tempo, le previsioni del meteo, tutti i fattori che partono dagli anni 50, quando in ambito militare il pilota aveva bisogno di capire se uscire o meno. Oggi lo usiamo per fini personali, secondari a questi e porre l'attenzione a fenomeni che facciamo difficoltà a riconoscere dal punto di vista di scala e a una dimensione umana di percezione più a misura d'uomo può far riflettere su quello che ci circonda e che tutto è interconnesso all'interno di un unico e lo stesso ecosistema. Sempre per il festival l'abbiamo realizzato con Red Eye Magazine, un metaverso che è accessibile attraverso la realtà virtuale, il device, il computer, insomma qualsiasi tipo di tecnologia, quindi accessibilità, non solo si può venire al festival ma dura anche, diciamo rimane all'interno se vogliamo, ecco online, e su il festival, quindi arte contemporanea, ma anche sull'aspetto quello nuovo, cave editoria, dove la stampa, la fanzine, il magazine, l'elemento cartaccio può avere vita, anzi può essere esteso, amplificato grazie alla tecnologia.